Ciao cari followers, questa è la data per il ritorno della pioggia e dei forti temporali in Italia, ma prima di entrare nei dettagli non dimenticate prima di sostenerci con ammirazione per questo video e di iscrivervi al canale attivando la campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo relativo al tempo in Italia, momento per momento e grazie per tutto il supporto. Se, secondo le ultime uscite del modello numerico europeo, è molto probabile che temporali molto forti entrerà nelle regioni settentrionali d'Italia, in particolare questo fine settimana, e in particolare a partire da giovedì 22 giugno 2023, dove è previsto l'ingresso di una massa d'aria piuttosto fredda accompagnata da elevata umidità verso Svizzera, Austria e Francia meridionale, sarà accompagnata da tuoni molto forti ed entreranno nelle regioni settentrionali d'Italia con piogge che saranno molto forti ed improvvise e potranno portare alla formazione di piogge torrenziali e alluvioni improvvise in alcune zone, e come potete vedere nelle immagini temporali in rosso, nel senso che maggio ci saranno casi molto forti di instabilità atmosferica, e stiamo seguendo questa situazione forte e dettagli più accurati, rimanete sintonizzati per questo più tardi e quando il periodo si avvicina di più, e alla fine siete in buona salute.